Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto alta definizione 15 videocamera digitale. Colore, bianco dimensione del prodotto, circa 70, 5 x 45 x 36, 5 mm dimensione d'imballaggio, circa 270 x 160 x 63 mm misura dello schermo. 1, 5 pollici tensione di lavoro. 5 volt mille macpacità della batteria 1100 ma risoluzione video, FHD 1920 x 1080 x 720 x 720 wg a 848. X480 wg a 640 x 480 risoluzione foto. 12 m 4032 x 3024 10 m 3648 x 2736 8 m 3264 x 2448 5 m 2592 x. 1994 obiettivo, non regolabile format video, mode format foto, VIP memoria esterna, scheda SD, C6 a superiore porta, mini USB uscita, DMI impermeabile, si. Fino a 30 metri di profondità adatto per videocamera da auto, video registrazione, fotocamera subacquea, un XDV, un X coperchio impermeabile, un X supporto da bicicletta, un X molletta per coperchio impermeabile, un X base di supporto, 2 X cinturino, un set X strumento di montaggio, 2 X adesivo, trem, un X panno per pulizia, 2 X fibbia, un X supporto da su tua ventosa, un X molletta multifunzionale, un X molletta. Un X base per casco, un X caricabatterie e un X caricabatterie. Da auto, un X cavo USB, un set X fascia, un X manuale e confezione originale. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon Europa, dalla pubblicità e link all'Amazon IT. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.